Ciao ragazzi e ciao ragazze, grazie Bebe, ti voglio bene anch'io Ciao ragazzi e ciao ragazze, io sono Alice e voi siete pronti ad entrare nel mio mondo? Allora, ci sono due persone importanti con noi oggi, Bebe basta! Lui comunque Bebe lo fa a posto, non la baglia mai e la baglia solo quando registra, vabbè Allora, premesso che è tornato Pannino! Ragazzi l'avevamo scontato piccolo Pampa Comunque sono stati quasi tutti in logo negli ultimi video quindi diciamo che non ha potuto partecipare Però lui ricordatelo perché è sempre nostro, lo mettiamo qua e guarderà questo video che adesso andrò a spiegarvi Secondo, parte del video importante, mia sorella che... Ciao ragazzi! E terza cosa raga, oggi siamo in quattro, non siamo in due, anzi in cinque perché c'è anche lui Perché le nostre ombre dietro si divertono a fare casino con la luce ma... Vabbè Ok, sarò un bel Sì, oggi il video che registro e che vi porto su YouTube è My sister does my makeup Ovvero mia sorella mi truccherà Io ho già po' uno sarà il pensiero perché... No Alice, lo capito, non è che ti sto attaccando a una bellata Qualcosa... Sì, qualcosa... Vabbè, io qua ho sempre la risolta pochette e ci sta una delle mie palette preferite Squishy! Non è uno squish, è una make-up spots Ehm... C'era qualcosa dentro di umido, vero? Non è umido, è che la... Non è bagnata, è fredda perché non c'è il terreno che si vuole dentro la pochette Squishy! Ancora, non è uno squishy ti ho detto Ragazzi, allora questa è una delle mie palette preferite Se riesco ad aprirla ve la farei vedere Molto volentieri Ed è molto bella perché qua ha gli ombretti e poi si apre e poi fermati E poi... Così Anche se questo non mi esalti Si può vedere però... Ti ho ordinato, chissà come diventino oggi No, Agnese No, ragazzi ho la paura di te No, Agnese non ci provare perché lo sai che io su queste cose... No Gli ombretti rovinati, raga, no Il fondo dita, tutto, ma gli ombretti Però facciamo il cambio così tu hai più luce per truccarmi Ok Ok, allora Agnese tu sai da cosa devi usciare? Tu la mattina mi vedi perché siamo in casa Ok Che è questa? No, guarda bene Che è questa? Brava Mi sembra è stata tutta a casa Agnese non ne devi metterli troppo perché altrimenti diventa arancione Chiiiii E mi raffinesci Dai, me la metto con questo? Ok, sta dentro Secondo me cosa serve? Ma che ne so Io pensavo fosse con questo Però questo è più divertente E' tanto poi metti anche questo Sii! è tutta fredda fredda? si perchè questa qua si mette con vabbè niente la c'ho da te sono troppo forte troppo forte questo ok spiega questa è la cipria come vedete ragazzi è molto bella ha uno specchietto io ora la andrò a prendere molto delicatamente con questa spugnetta color qualcosa così come vedete ragazzi non esagerare e lo andiamo ad applicare sul viso della persona o ragazzo e se va a mettere molto delicatamente sulla faccia animale sta spalmando un sacco no vabbè ma no però non è tanto vero? che si fa a tamponare? ma raga che è già un parola no però raga non è neanche tanto raga raga è mio ma che vuoi oddio raga ne sento che ti vuole esammettare agni verso i capelli magari no agni è un sacco no ma è un sacco ti spalmando i capelli ma cosa? non so hai venuto il viso a niente no hai venuto il viso no perché io mi devo trattare bene però la cipria non mi riesco mai a metterla mi riesco a metterla mi riesco a metterla no allora ho scherzo ho scherzo ok abbiamo lo spedito ora lasciamo la ragazza così e andiamo a chiedere molto 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 non so come chiedere a me il cosetto ora c'è questo vero? che è il fondotinta no quella è cipria no questa è la cipria giusto e andiamo a no no al contrario come al contrario? con questa parte qua ecco perché era sempre stato strano sto coso e va sotto gli occhi no 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 la cipria va in tutto il viso vero? non mi fa vedere le rughe si è per opacità allora ragazzi comunque se voi vedete che io ho un trucco molto bene è una tortura tranquilli perché io in realtà no so trucchi ognuno è l'acqua però chi? oddio mi è andata la polvere aspira polvere no vabbè aspira polvere un aggetto che aspira la polvere ma dai che sacco che aspira che vedi a bocca? ora ci sta il coso che quello tipo che mamma c'è bianco mamma c'è 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 cacao c'è 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 cacao c'è c'è cacao a volte l'ho messa cacao perché io a volte c'è una faccettina questo è troppo caleno no aspetta quello come si chiama? salatemi poi quello si non si chiama no zitta zitta quello quello no come si chiama? quello è è il coprocar bravo bravo è preparato a bronzo questo questo si bello devi fare sempre questo ti voglio fare un trucco questo vero? quello è sulla ciglia no no questo è sulla ciglia firma andiamo al radio ti ho detto correttore questo? vai intanto lui mi metterà andina poi c'è anche un trucco di andare anche a te no il panno non ve lo rovino non è al contrario no così questa è la mia sicura io l'unico credo che sarò tipo una ma piano comunque c'erò le rughe soltanto per questo trucco tranquilla che le rughe ti vengono a tutti non puoi avere giustificazioni le rughe vengono fai questa mano aia aia ma è da male che tipo quasi sopra un arancione qualcosa no vabbè quella è la aia riusci a dire quella è aia aia è la base sei tutta piena di pallini cipriotti no 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 vabbè no no ok aia aspetta te lo sei tolto oh poi ragazzi lo devo dire io il fart no quello è proprio l'ultimo l'ombretto vabbè si o le mimbe o cosa è la cibia vuoi mascara che è uguale oh la propria vita rime quella è la parte bella allora facciamo che usiamo quello di chiari no no si 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 tu come è aia 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 ferma pennello prendi pennelli che non ci sono ma niente che sono questo dai si quello che tu facci puliscilo allora niente venga mi sa che sto leggendo il trucco dai prendi il bolletto io lo vorrei di questi colori allora cosa vorrebbe allora facciamo i barriacqua ho tutto tutto di questi colori ah quindi facciamo un rosato così ma un nude aia 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 cosa vuoi cosa vuoi ti ho detto questi ok quindi questo ok hai detto questo perfetto no ok ok allora facciamo questo vai quello va bene ok l'hai preso eh l'hai preso allora ragazzi io ho preso questo colore qua vedete questo o questo non abbiamo quale questo ora ragazzi dovremmo chiedere l'occhio perché se non chiedere l'occhio mi era male no pensavo di venire e quindi andiamo ad applicarlo proprio sull'occhio vedete così ragazzi ma piano piano no senti è una cosa per cui è delicata aia no ragazzi con l'occhio devo mettere l'occhio con l'occhio bisogna fare attenzione ecco no però poi devo fare la sfumatura la sfumatura papìa la sfumatura ho detto sfumatura vabbè sfumatura farei la sfumatura è oro vedi che è oro ok dai veloce però però non chiude gli occhi un attimo non ho ricordo quello sto facendo la conta chiedi gli occhi chiedi gli occhi direi che l'ombretto siamo all'oltranza no ora ragazzi andremo a sfumare sfuma quindi ora andremo togli va bene dai posso chiudere chiudi ok ho chiuso la palette secondo te ora che va? ora va il mascara no quella proprio alla fine fine la liner devi mettere la liner ovvio anche i rossi il sopracciglio è uguale le sopracciglia le sopracciglia le sopracciglia questo è delle sopracciglia ma più ce ne riesco a vedere di lei no prima che me lo rompi che fai e qui tu ti dovresti mettere questo vero? perché questo è il tuo colore esatto quindi ragazzi ora andiamo a mettere questo quello al centro questo al centro mi mancano le sopracciglia che l'interno vedete raga vedete andiamolo a prendere non tanto perché è scuro Agne lo stai mettendo bene? come credi? Agne aspetta aspetta si sistema ti è partito Agne mi sono sbagliata non è che so truccare e poi ho tutt sono di sostanza buona ma tutti i miei interessi deve essere truccata malissimo dopo quello che mi ha fatto dopo quelle suon'otto non le ha detto quelle suon'otto sono la staglia ora ce l'ha Reimer Reimer come si chiama? Reimer qual è il mio capimento? allora vado all'esclusione no vado all'esclusione Agne non è difficile secondo te quello potrà mai essere un eyeliner? siamo seguri che ci sta? Agne l'hai rivista 10 volte ah eccolo no 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 agne agne no 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 sottilissimo la uso come pentele ma è fighissimo ma è fighissimo se tu apri la bocca mi puli poi mi lecchi se mi apri la bocca e dai che schifo no dice queste cose io me ne vado no apri la bocca ma mi devi lecchi se tu apri la bocca mi lecchi no no basta sto qua no ma vai chiusa la bocca e ti metto un fazzoletto no normale Alice norma per quanto continua sta cosa della bocca non mi sto ferma ma te lo faccio dal contrario no 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 allora deve stare ferma quindi ragazzi andiamo a cercare di farlo uguale se non abbiamo uguale a crescere a te no è troppo fuori deve essere uguale no vabbè ma perchè non l'avevi sento bene ma dove è arrivata ma però no deve essere uguale è un po' identico illustration più una illustration meno mi fa gli occhi a palla questo cosa mi ha fatto già lo so una illustration più una illustration meno sapete che non sono così orribili allora andiamo a mettere questo la cosa del giorno quello alla fine il rime illuminante cosa è mettere l'illuminante? questa questo è bello hai visto quanti belli pillantini non si mette proprio qua però vabbè è figo ragazzi tu mi hai detto che si mette qua dove lo metto? ho detto che si mette qua aaaaa aaaaa ok perfetto quindi passiamo ora a mascara giusto? e poi rossetto mhm quindi mascaretto ma sai che sto già cercando di immaginare il mio trucco sfidati non lo potrei mai immaginare così bello ma come si mette così? o così? è uguale attento allora ragazzi abbassa l'occhio ora si deve fare così come lì abbassa l'occhio alza l'occhio mi sembra no no io rimagino ma tu fai ok ti rimagino dovresti aprire le ciglia sta facendo cosa vuoi aprire le ciglia o? fatti t 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 ok non così no così orizzontale ok va bene passiamo avanti aspetta Agnese no no è normale ora è rossetto se volete un make up tutorial da me vai Agnese Moselli abbiamo un quale esperta di tendenza mi cercate sul mio ufficio che non so dove sia abbiamo le esperte di tendenza posso mettere questo rossetto? ma anche no lasciamo le mie comprate naturali poco Agnese non devi fare fa come si mette io provo già lo stai mettendo tutto si fa così no fai tampone e poi faccio ma che stai dicendo posso mettere così ma che ridi così non mi hai tutto sui denti allora no allora no no però devi ridere un attimo ecco no 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 fidati 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 oh io so mettere benissimo l'ossetto però tu devi stare a fermare ready ready si con le unghie no vabbè sta a fare con te con l'altra con il dito ma raga devi oh ready è orribile aspetta ora ti dovresti guardare questa cosa del ready mentre c'è la sua dente è proprio oddio regà è troppo bella ma quanto è bella raga ci sarebbe anche il fardo ma facciamo che è così perché lo ho lasciato di là ah no aspetta sta qua se vuoi si 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 però ecco eh eh quello con questo qua di oliguminante perché il pennello l'ho scortato di me e poi devo prendere questo qua poi io però vedo la risulta tipo il tram perché se lo ho tirato qua no la risulta non è un tram sbaglio prendere il tram se lo vedete vabbè ma quando lo prendi tu il tram infatti si ma l'ultima volta con la fuori quando lo prendi tu ragazzi è il momento della rivelazione ma chiudere l'occhio chiudere l'occhio apri gli occhi intanto vedi il rossetto eh no dunque io vedo solo te posso? sì se l'hai rossetto pensavo a Roberto vabbè vai vai vedi tu no no se ne vede è tutta tutta bene allora no vabbè raga ma è super no non è vero è orribile ciao ciao Agnese ciao comunque sei non anche no sei no sei è licenziata dalle possibilità di make up di Marisa Maserly comunque raga lasciate un bel like per questo trucco fantastico vai mia sorella riprendiamo il nostro pan è mio no è mio è mio vabbè è andata la prossima volta mi trucco io la prossima volta mi trucco io per me va bene non so per me non va bene facci sapere nei commenti se volete una vendetta un trucco bellissimo materia da Agnese io so truccare raga quindi vi arreste bella sì vi arreste bella comunque niente lasciate come c'è un ballizzo iscrivetevi perché siamo arrivati a 42 iscritti e commentate con quello che volete con hashtag sogni andenziano sempre ho scoperto che i trucchi mi piacciono e tu al trucchi mi piacciono e hashtag Agnese fa schifo e hashtag Agnese siamo tutti per i trucchi ciao raga ciao